Ben trovati l'informazione di TRM H24, iniziamo subito con un riferimento alla sanità, meno burocrazia, maggiori tutele e più fondi. I medici di medicina generale scendono in piazza anche a Bari in favore del sistema sanitario nazionale. Mettere i medici in condizioni di non poter lavorare e sostengono significa danneggiare anche i cittadini. Ascoltate. Un fiume di camici bianchi scende in piazza anche a Bari davanti al Policlinico per puntare nuovamente i riflettori sullo stato del sistema sanitario nazionale e sulle condizioni dei medici di famiglia. Sono sempre meno e sempre più sommersi da adempimenti burocratici che sottrangono tempo ai pazienti. Alla scarsità dei fondi corrisponde una scarsità di medici innanzitutto, perché le regioni hanno formalmente sbagliato tutta la programmazione. Noi oggi abbiamo su dieci medici che vanno in pensione tre che possono sostituirli, il che significa che su quei tre medici cade una pressione assistenziale oltretutto anche maggiore considerando il fatto che la popolazione è assolutamente invecchiata. Nei giorni scorsi sono stati annunciati ulteriori fondi che terranno anche conto delle specificità, almeno così è stato dichiarato dal governo. Come giudica questa posizione? I fondi, se ci sono, andranno utilizzati per riscrivere un servizio sanitario nazionale naturalmente nel rispetto della Costituzione. La richiesta è di rispettare la dignità della professione del medico. oggi veramente messa sotto pressione da una serie di interventi che sono assolutamente impropri e che costringono i medici a fare più i burocrati che i sanitari. Non è lontano il rischio che si possa tornare a un sistema in cui in assenza del privato sarà impossibile curarsi, sottolineano ancora. Un settore che non è più attrattivo e spesso spaventa i più giovani negli ultimi anni. Infatti la migrazione verso il nord e fuori dall'Italia di giovani medici del mezzogiorno è aumentata, così come scarseggiano gli operatori del 118. Stiamo notando che sia a livello regionale che a livello nazionale c'è un totale disinteresse nei confronti del settore. Ovviamente i colleghi vanno via. Qual è il principale timore per chi diventa oggi un medico? Sicuramente trovare un ambiente di crescita, non sempre assicurato e soprattutto il supporto anche dello Stato, della politica. Adesso invece torniamo a parlare di un altro tema importante, il caporalato. Per contrastarlo, in Capitanata ad esempio, è necessaria un'azione di sistema e di collaborazione istituzionale. Questo almeno è quanto emerso in un seminario promosso dal Rotary, promosso e organizzato a Manfredonia. Il contrasto al caporalato diventa più efficace con la collaborazione in rete tra istituzioni, forze sociali, imprenditori, terzo settore. La collegialità dell'intervento contro l'illegalità, lo sfruttamento e la irregolarità lavorativa in Capitanata è emersa nel seminario organizzato a Manfredonia nel Fuggiano dal Rotary. Il caporalato è la parte di un fenomeno ben più grande e parte integrante di quelle che vengono chiamate le agromafie, che incidono ovviamente all'interno di un contesto sociale e in particolar modo in una terra che ha una forte vocazione agricola. Con franchezza posso dire che questo governo già dal mese di novembre ha attivato, attraverso il ministro loro brigida, dei primi decreti attuativi anche di quelle che sono alcune direttrici dell'Unione Europea per il contrasto al fenomeno del caporalato. Dal tema del seminario si comprende come l'aspetto sociale del fenomeno sia centrale, visto l'impatto del fenomeno migranti e l'emergenza presentata dai ghetti, i luoghi della non vita. Non basta l'egreggio lavoro che svolgono le forze dell'ordine, la procura, c'è bisogno di un cambio culturale, c'è bisogno di creare strumenti necessari per arginare questo fenomeno che lede la dignità delle persone e la dignità del lavoro. E gli strumenti oggi li abbiamo, li abbiamo a disposizione col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi assolutamente non perdere questa opportunità. Il PNRR di Borgo Mezzanone, 53 milioni, il finanziamento più grosso d'Italia, cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a costruire un tavolo tutti assieme, prefettura, regione, le università di Bari, il Politecnico di Bari, l'Università di Foggia, il Comune di Manfredone e anche il Comune di Foggia. Questa è una sfida perché l'impostazione deve essere non noi isolati, ma un sistema. La politica a livello regionale da oggi inizia un nuovo percorso per il Partito Democratico, lo ha dichiarato il neosegretario del PD pugliese, Domenico De Santis, durante l'Assemblea regionale. Negli ultimi giorni ci sono state migliaia di nuove iscrizioni al Partito Democratico, da qui inizia un nuovo percorso. Lo ha dichiarato il neosegretario per la Puglia del PD Domenico De Santis in apertura dell'Assemblea regionale, chiamata a eleggere la nuova segreteria. Tra gli obiettivi, ha dichiarato De Santis, la necessità di ricucire i rapporti con le periferie. Con le prossime sfide elettorali all'orizzonte occorrerà provare a costruire larghe coalizioni in tutti i comuni, ha sottolineato ancora. La soluzione sarà realizzare coalizioni larghe individuando candidati e candidate che siano in grado di rappresentare i cittadini e vincere le elezioni. Riparte dai giovani, dalle donne, da tante persone che vivono nella società normalmente, operai, lavoratori agricoli, professionisti, lavoratori dipendenti. Vogliamo costruire un democratico di popolo e popolare e vogliamo partire da chi è in difficoltà in questo momento, tantissime famiglie pugliesi, perché purtroppo la crisi comunica internazionale li sta attaccando. Costruiremo un partito democratico che parlerà a loro e di loro, ma soprattutto che abbia un'idea di Puglia e di sviluppo dei prossimi anni. In apertura del suo intervento, il capogruppo del PD in Senato, Francesco Boccia, ha sottolineato la preoccupazione per la deriva di destra di maggioranza del governo che ha dichiarato, anziché dare risposte al paese, la butta in rissa. Noi, ha continuato Boccia, vogliamo sapere soprattutto sul mezzogiorno e su tutte le aree interne del paese quali progetti modificano del PNRR e quali tagli ci sono, perché non consentiremo, ha aggiunto, di farli al chiuso di una stanza, soprattutto se quella stanza è Palazzo Chigi. Ripensare il futuro di Matera e anche il PD locale ha avviato in città un dibattito. Si è discusso del piano strategico comunale all'incontro voluto dal PD di Matera, un dibattito aperto sul futuro della città che, è stato detto, ha vissuto gli anni di capitale europea della cultura, ha superato la fase tragica della pandemia ed ora è pronta a ripensarsi. È opportuno rimettere in marcia la città, individuare nuove traiettorie di sviluppo, fare un po' il punto della situazione, soprattutto coinvolgere i cittadini, le parti sociali, i sindacati, le associazioni datoriali e anche i partiti rispetto a quello che deve essere il destino di una città straordinaria come Matera che può essere, può continuare a essere punto di riferimento del mezzogiorno non solo sulle politiche culturali ma anche sulle politiche di sviluppo. Per questa ragione, come Partito Democratico, noi vogliamo anche animare il dibattito in città perché ci sembra opportuno appunto il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali rispetto al destino di questo territorio. Crediamo che è importante intavolare un discorso insieme all'amministrazione, insieme al Consiglio Comunale perché insieme a loro potremo poi programmare la città del futuro. Si fa insieme, si fa maggioranza e minoranza, è importante lavorare insieme per poter dare un volto alla nuova città che vorremmo. Oggi, dopo il successo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, c'è la necessità di fare in modo che quel successo faccia in modo che attraverso questo strumento fondamentale guardi ad una città a mondo, ad una città che valorizzi sì la sua identità storica attraverso i sassi, ma dia nuove funzioni. A disegnare il futuro della città, definire quelli che sono gli ambiti, gli assi di sviluppo, solo così è possibile costruire delle progettualità che si vanno ad integrare con il piano strutturale. In assenza di un piano strategico, diventa alquanto difficile costruire un piano strutturale che sia in grado poi di garantire lo sviluppo della città. Questa è la sfida che noi oggi abbiamo, affiancare ed integrare alla progettualità, al piano strutturale, un disegno strategico della città. E cambiamo argomento, donare è questa la filosofia che da sempre contraddistingue l'azione dell'associazione Io Potentino Onlus. Non è soltanto perché il periodo pasquale, ma perché queste iniziative secondo me vanno sempre più sostenute, visto il clima e la povertà dilagante per alcuni, anzi per molte classi sociali assolutamente. Trovo una cosa giusta, soprattutto aiutare il prossimo, e insomma come si può lo facciamo nel nostro piccolo. Sono sette supermercati che hanno aderito all'iniziativa dell'associazione Io Potentino Onlus nell'ambito del progetto Magazzini Sociali Solidarietà Circolare per donare uova fresche per chi vive in condizioni di povertà. E' da sempre questa la missione dell'associazione di volontariato che si occupa di raccolta di beni alimentari per donarli a chi ne ha davvero bisogno. La scelta delle uova non è casuale, hanno spiegato gli organizzatori dell'iniziativa che con i loro 35 volontari hanno atteso i potentini all'uscita dei negozi della piccola e media distribuzione. A ridosso della Santa Pasqua, infatti, attraverso questa raccolta sarà possibile per le famiglie della rete solidale ricevere questo prodotto che è tra i protagonisti indiscussi delle tavole lucane e rappresenta allo stesso tempo l'emblema della vita. L'intenzione era quello di attraverso un simbolo puramente pasquale, che è un simbolo di rinascita, lanciare un messaggio di comunità nuovo, diverso, ma soprattutto poi nello specifico, nel particolare, raccogliere un alimento che per ovvi motivi non viene particolarmente distribuito nell'ambito delle azioni quotidiane di raccolta alimentare e quindi un ulteriore supporto a quella che è la nostra parte nel principale, che è la rete Caritas, quindi ad aggiungere al normale paniere che in queste settimane, in questi giorni viene donato alle persone bisognose l'uovo in modo tale da poterlo poi utilizzare nelle ricette tradizionali tipiche delle vacanze pasquali. E intanto a Ginosa si rinnova l'appuntamento con la Passiocristi. Ginosa, città della Passiocristi, giunta alla 47esima edizione presentata nel Centro Storico da Proloco e Comune. Due agli appuntamenti il 5 aprile, l'8 con il tradizionale corteo storico per le vie del centro e la sacra rappresentazione al rione Casale. Il Ginosino, la Passiocristi, ce l'ha nel cuore, ce l'ha nell'anima e poi, tra l'altro, essendo collocata all'interno della settimana santa, tutti i riti della settimana santa ovviamente si sposano benissimo con le nostre tradizioni culturali e religiose. E la Passiocristi è il culmine delle attività pasquali che consente appunto al nostro territorio di accogliere tanti turisti incuriositi. Da 47 anni lo scenario suggestivo delle gravine si popola di figuranti, comuni cittadini, che portano avanti la tradizione raccontata anche alla bit di Milano. Quasi mezzo secolo, quindi sentiamo tutto il peso di una manifestazione che effettivamente ormai è storia. Diciamo circa 150 figuranti, ma al tempo stesso altre 40-50 persone che sono dietro le quinte. perché organizzare un teatro a cielo aperto nelle gravine richiede tanto lavoro, tanto sforzo. C'è gente che sente questo senso di appartenenza, quindi lascia tante volte le proprie famiglie, lascia le proprie attività, quindi rinuncia a qualcosa del proprio per mettere a fattore comune con la comunità e preparare un contesto che effettivamente lascia tutti a bocca aperta. Il 5 aprile, dopo una finestra live dal Corteo Storico a partire dalle 19.30, per condividere i primi momenti dell'intensa giornata, la diretta integrale della Passio Cristi dalle 20.30 su TRM Network. Faremo la diretta integrale sui vostri canali di TRM, su Sky e sulla piattaforma digitale terrestre, proprio per valorizzare ancora di più questa manifestazione a livello nazionale, ma soprattutto per permettere anche a chi non può accedere materialmente nel letto della gravina, perché comunque per questioni di sicurezza bisogna prenotare e quindi è limitato a 200 persone per ogni giornata di manifestazione e quindi cercheremo proprio con la televisione di entrare nelle case di tutti quanti. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.